Le cose che abbiamo in comune con il mio aspirante BFF sono due, le origini venete e l'incontrollabile paura delle suore. E già così è tutto un programma. Il BFF di questa puntata è Edoardo Zaggia. Segla! Benvenuto a BFF, Edoardo Zaggia! Grazie Florenzia! Io ho bisogno che tu mi canti la vita però, con lo stile di questa sigla. Possiamo fare questa puntata cantandola così, se vuoi. Ma che bello sarebbe un sogno vero! Tranne che io non so cantare bene come te. Ma no, perché diventa un po' musical, sai, dove ci sono i vari personaggi che ognuno con la propria attitudine canta e si approccia. Io faccio quella parte di musical un po' parlato, sai quando stanno per iniziare a cantare ma ti dicono quelle cose un po' sostenute. Sì, ma poi quando c'è l'attore che è un po' raccomandato e quindi non canta così bene, però deve stare nel film. Giusto. Perché se no non... Che bello sarebbe essere raccomandati nella vita! Guarda, ti posso dire sì! Sì o no? Sì, io desidererei un giorno dire sono qua perché mi ci hanno piazzata, ok? Mamma mia! Sarebbe molto bello, ci risparmieremo un sacco di fatiche. Mamma, vero? Sì, molto, molto. E invece siamo qua, siamo a BFF, non siamo nessuno dei due raccomandati e si vede secondo me. Ma sono contenta di poterti conoscere un po' meglio, caro Edoardo, perché io ho sempre avuto la percezione che noi potremmo essere BFF. Vero! Best friend forever, totalmente. Tra l'altro, io lo dico sempre, questa cosa so che è anche un po' fastidiosa ma io ci credo, io nei tuoi confronti ho un po' di pippo baudismo. Cioè io sono convinta nella mia mente che parte della tua popolarità adesso sui social, di tutto quello che stai facendo, in piccola parte è anche grazie ai miei riposti. È vero che io devo testimoniare, Florenzia c'è dal giorno 1, credo, se non 1 o 3. Da meno 1, esatto, sì sì sì. È vero, quanti anni fa era ormai? Eh, me lo devi dire tu, cos'era? Forse 2 o 3, sì. Sì, 3 anni fa. Sei stata una delle prime con un largo seguito che ci ha ripostato e noi eravamo, ma come abbiamo fatto a farci notare da una ragazza così talentuosa? Eh, infatti, non so perché nel mio caso invece, che avevo un profilo normale, da persona normale, vi ho ripostati perché era troppo divertente. Avevate questo format rubrichette, che ancora va avanti, ed era un format video che in un momento, tra l'altro come quello della pandemia, dove non c'era nulla da fare se non prendersi male e disperarsi, era davvero una boccata d'aria fresca. Oltretutto, in quanto Veneti, cioè dobbiamo diffondere un po' della comicità veneta che secondo me manca in Italia. Ce n'è bisogno. A volte ci sono, sai, quelle un po' macchiette comiche del Veneto un po' imbranato o un po' lamentoso. Invece io mi sento di uscire un po' dagli schemi della comicità veneta. Bravissima. Così che nessuno stava calcolando questo schema della comicità veneta. Non ci hanno visti arrivare. Vero. E anche adesso secondo me c'è un po' di miopia, continuano a non vederci, però a noi si continua. Noi un giorno vedrai che nella classifica di gradimento supereremo i toscani che, ricordiamo, hanno devastato questo paese. Beh, è vero. Non è una citazione di Boris. È proprio vero. E poi la comicità romana, ma è un po' inossidabile, devo dire. Tu vuoi proprio, lo sai che adesso si possono lasciare i commenti su Spotify, tu vuoi proprio che la gente ti dica ma io sono toscano, perché ti stiamo antipatici? Ci dispiace. Ognuno ha la sua croce. Esatto, ognuno ha quei propri problemi e va bene così. Sì, invece piuttosto facciamo un passo indietro, perché appunto io ti conosco per questo format ma mi piacerebbe, magari non tutte le persone all'ascolto di BFF, sanno perfettamente di che cosa ti occupi e perché sei arrivato fino qui al salotto di BFF e quindi ti chiedo brevissimamente di fare la tua bio-FF. Adoro, mi piace anche questa cosa che cambi le parole, io vivrai per queste cose. C'è tutto un multiverso già di BFF che io adoro. Io arrivavo dal mondo del lavoro normale, prima di finire nel mondo circense. Cioè lavoravi davvero? Io lavoravo davvero. Ma raccontami, ma dici, com'è lavorare veramente nel mondo? Non mi capita spesso di incontrare persone che lavorano davvero. Sinceramente, un incubo. Un incubo, ma io penso che chi ci sta ascoltando lo sappia molto bene. Come no, certo, certo. No, da lì poi ho, nel frattempo da Roma mi sono spostato, dal Veneto mi ero spostato a Roma, da Roma a Milano e stavo facendo dei corsi per fare della stand-up fra l'altro, che facevo di più all'inizio, adesso è un po' più persa nei meandri. Quindi lo facevi diciamo a titolo di hobby? Esatto, assolutamente hobbystica pura, cioè finivo di lavorare alle sei e mezza, anzi all'inizio venivo a Milano solo per il corso. Ho iniziato prima il corso di comicità e poi ho trovato lavoro a Milano. Ok. E era una cosa tipo dalle otto e mezza alle undici, sai, quegli orari proprio da hobby puro. Certo. E' stato molto divertente, degli anni formativi. Una bella palestra. Una bella palestra e però nel frattempo, col mio compagno di vita e di lavoro anche poi oggi, Alberto, pensavamo di creare qualcosa che ci rappresentasse di più a livello artistico. Certo. Sia io in questa strada che avevo iniziato al tempo nella comicità, sia lui per quanto riguarda la parte di scrittura e regia e quindi stavamo pensando a qualcosa, un contenitore che ci permettesse di parlare delle cose di cui volevamo parlare. Che unisse le vostre due vocazioni anche, no? Competenze. Bravo. Soft skill. Know-how. Know-how, grazie per averlo detto. Che sembra sempre una parola veneta. Sì, know-how. Il know-how. Il know-how, sai lo know-how. Il gattanto know-how. Quanto è vero, il gattanto. Sì o no? Ah sì, il gattanto know-how. E niente, da lì effettivamente poi con lo scopio della pandemia noi avevamo già preparato tutta una serie di tecnicismi e ci siamo trovati proprio con l'ultimo calcio che ci ha fatto partire. Quindi in realtà non è un format che, nell'esempio abbiamo avuto anche qui a BFF, Elisa True Crime. E Elisa in realtà è stato quasi il suo format, quasi il prodotto del periodo di lockdown. Perché era a casa, non sapeva cosa fare, si è messa davanti alla telecamera su YouTube a parlare dei casi che l'hanno particolarmente scioccata, no? Ma nel vostro caso era già nell'aria, ce l'avreste comunque fatto questo format? Sì, perché la prima puntata è uscita, credo, veramente due giorni dopo il lockdown, quello proprio in cui ci lasciavano a casa dagli uffici, chiudevano le scuole. E noi avevamo già preparato nei mesetti prima, un paio di mesi prima, il set, avevamo pensato alla struttura, avevamo iniziato a buttare giù degli argomenti. Quindi era tutto pensato, nel nostro cervello la pandemia non esisteva nel momento in cui stavamo ideando il format. Poi è partito effettivamente dentro la pandemia, quindi viene considerato figlio della pandemia. Poi lo è stato perché il tempo che abbiamo potuto dedicarci era quello che siamo riusciti a togliere dagli spostamenti casa lavoro qui a Milano, no? Quindi alle sei e mezza chiudevi il computer dell'ufficio e aprivi il tuo personale e iniziavi a lavorare a quello che in realtà all'inizio sì, forse poteva essere considerato un hobby, però per noi era già tipo, volevamo fosse il nostro primo lavoro che oggi per fortuna... Certo, però diciamo che all'inizio ovviamente... Era nei ritagli di tempo, era qualsiasi ritaglio di tempo tutto il weekend, però sì era in secondo piano. Sì, sì, diciamo che lì la fortuna forse, come sempre, è il tempo che voi avevate in più bonus del fatto di lavorare da casa, da remoto, ma anche il tempo in più che aveva la gente di guardare format online. Quello è vero, quello è vero. Di sicuro, io credo che ci sia stata una forte curiosità da parte del pubblico in quel periodo perché giustamente c'era più tempo da riempire. Eh sì, eh sì, se non una fortuna, perché ovviamente in un periodo del genere fortuna è difficile, però di sicuro un traino, una leva importante da considerare. Io abbiamo cominciato malissimo la puntata dei BFF, allora benissimo perché siamo già in confidenza. Abbiamo già nominato il Veneto tre volte. Quindi benissimo, puntata stellare, però c'è tutta una liturgia da rispettare, io ti devo offrire il mate. Ma ho visto dei cucchiaini bellissimi, glitterati, vedi chi ci sono? Sì, miei! Adoro! Sì! Posso dirti che è molto tempo che vedo e sento parlare del mate e sono molto curioso di provarlo e sono molto contento che me lo faccia provare tu. Veramente? No! Grande felicità! Ti aspetto! Vai, vai! Come delle vele BFF al mio tre! Uno, due... Tre! Super interessante! Ma interessante che tipo non sai cosa dire per non fare brutta figura o interessante in vero? Non me l'aspettavo! Allora, c'è molto delle erbe. Cioè, lo dirò ma non in senso negativo. Qual è il senso negativo delle erbe, scusami? Gli spinaci, mi spiace. Gli spinaci, a volte sono in senso negativo, quando sono troppo cotti. Gli spinaci, gli spinaci sono la vita. Nella torta salata con la ricotta. Sì, anche, sì, in effetti, da soli dici che sono un po'... Forse il problema è come faccio io gli spinaci. Cioè, apro la vaschetta, ho comprato al supermercato di quelli già lessi, lo butto in padella e quindi è una doppia cottura. Vai avanti col mate che è meglio. Sì, sì. Però mi ricorda, in senso positivo, lo spinaci, cioè quel gusto... Quindi ti sa un po' di spinaci buttato in padella dalla plastica. Ma posso dire che mi ricorda anche un po' il tabacco? Si può dire? Sì, come no, certo. Mamma mia! E anche questa è una cosa positiva. Beh, io non ho mai fumato, però devo dire che a volte il tabacco si usa per fare anche i profumi, no? Sì, sì, c'è proprio la fragranza. Sì, sì, sì. È la parte buona del tabacco, non quella del fumo passivo. Trovi il positivo in tutte le cose. Delle cose un po' dubbie. Molto... non pensavo avesse questo gusto, sai? Vedi, a saperlo prima, durante le tuoi giornate di lavoro da remoto, l'avresti potuto sorseggiare. Tra l'altro tu facevi il smart working di cosa ti occupavi? Cioè, che lavoro era? Il tuo lavoro vero? Se si può dire, eh? Sì, un lavoro da incubo. Io facevo assistenza clienti. Eh, un saluto a tutte le persone che fanno assistenza clienti. Un saluto ai clienti. Soprattutto. Aspetta, perché adesso te la racconto come piace a te. Era assistenza clienti, grazie a Dio solo per messaggistica, cioè non telefonica. Già, lì ti risparmi tante sofferenze. Almeno dovevo interfacciarmi con dei messaggi, ma gestivo, era per un'applicazione e gestivo le richieste di assistenza con le persone a cui non andava questa applicazione, che erano molte, perché l'applicazione spesso non funzionava. E non era una di quelle applicazioni grandi, era molto piccola, molto locale, aveva un suo uso, un suo senso. E io gestivo tutta l'Europa, gestivo Spagna, Francia, Germania, Polonia. E quindi ti scriveva gente incazzata da ogni luogo, da ogni lago. E tu mi dirai, Edoardo, ma tu conosci tutte le lingue d'Europa? Certo che no, mia cara Florenzia. Ma io, come molti, molti italiani, posseggo Google Translate. Quindi hai capito un po' il livello di cui stiamo parlando. E questa era la mia vita. Però posso dirti, c'era un fascino nell'avere così tanti messaggi ogni giorno, no? È come... Devo dire che io sto veramente capendo, cosa che non avrei mai detto, tu trovi il buono in ogni cosa. Anche nella più, come dire, difficile, no? Di base sì, perché sennò... Quindi tante persone ti scrivevano. Esatto. Ed era molto divertente vedere le problematiche che avevano, anche vedere i diversi approcci dei diversi paesi. Che erano i più gentili. I più gentili. Ma in realtà ogni paese aveva sia i buoni che i fastidiosi, diciamo. Ok, te la giro. Anche erano i più stronzi. Dai, io lo so che sono... Cioè, dai, puoi dirlo qua. Qua puoi dirlo, via. Allora. Dai. Alcuni italiani, perché l'applicazione nasceva in Italia, quindi c'era gente che si sentiva entitled. Certo. Nel conoscere l'applicazione da così tanti anni, usarela da così tanti anni. Si sentiva legittimata a direttive cose. Poi erano cambiate cose. C'era una volta, era così, adesso ecco là, avete sbagliato tutto. Ma, i più stronzi, mi spiace. Uno, due, tre. I francesi. Ovviamente. Un saluto. Un saluto grande. Un saluto a tutti i francesi. Non è molto la Francia. Che diciamolo, sono i toscani d'Europa. No. Sì, sì. Questa tagliamola, per favore. Io ho ritratto. Cento per cento sì. No, no, io lo rivendico. Un saluto alla Francia, alla Toscana e a tutti quelli che non ascolteranno mai più di effetto da oggi. Vi voglio bene. E quindi, niente, i francesi erano un po'. Eh, erano, anche perché sì, perché poi la, madonna, perché poi l'app era stata comprata e unita a un'app francese, quindi c'erano anche, i francesi e gli italiani erano cugini come sempre. Cioè, c'erano veramente lo zoccolo duro dei fastidiosi. Cioè, quelli che proprio si attaccano e non la mollano. Però li capisco, da un lato li capisco, dall'altro no, perché c'ero io. Cioè, volevo mandargli... Sai quando a volte vorresti mandare la foto di un cagnolino e dire questa è la persona con cui stai litigando, questo sono io, un cagnolino puccioso. Vuoi veramente attaccarti? Lasciala stare, Patrice. Oggi l'app non funziona. Chiusila, usane un'altra, non lo so. Fatti un giro, una passeggiata. Io ho una vita, ho una famiglia, per favore. Però non si può rispondere così quando sei assistenza clienti. È stato divertente. E fra l'altro poi mi sono accorto, lavorando poi nei social e facendo cose che stimolano anche il dialogo, che comunque ho continuato a ricevere una grande quantità di messaggi, però a quel punto solo positivi di apprezzamento per quello che facevo, che sono le persone che ci scrivono, ma che bello quello che fate. E quindi sento di aver sviluppato... Cioè, di base io non ho mai smesso di rispondere ai messaggi, capito? E anzi, lo fai con cognizione di causa, sapendo che cosa la persona che ti ha fatto i complimenti vorrebbe ricevere da te. È tutto studio di settore adesso. Mamma, che benchmark alti che hai adesso. Mi piacciono queste parole inglesi che stiamo lanciando. Io nella mia vita precedente facevo queste robe qua del marketing, mamma mia. Non perdiamo tempo piuttosto, perché questo, di BFF, più che una chiacchierata è un test attitudinale. Io ho bisogno, attraverso proprio delle rubriche, dei momenti, di capire con te quanto sei aderente all'idea che io ho di te. Quindi se possiamo essere compatibili come amici. Allora, io comincerei subito con i mai più senza. Quindi cose, persone, oggetti, case, auto, viaggi, foglie di giornale, in cui tu non rinunci mai. Comincerei con quella canzone che hai incistata nel cervello, cui non rinunci mai, canzone, motivetto, e che canti sempre anche quando non vorresti, non dovresti. Domanda interessante. Io sono una di quelle persone che con le canzoni si affidano molto all'algoritmo. Cioè, quando viene fuori la nuova funzione di, ma vuoi che ti consigliamo cose? Dico, sì, vai, i miei cookies ce li hai, spero tu ce li abbia, li abbia presi dai siti che frequento. E quindi mi affido molto a cose casuali che sento in cuffia, sblocco il telefono, schiaccio il più, il cuore, l'aggiungi. E poi so che nella mia playlist, ma tipo, non so il nome, non so l'artista. Ok, 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 quindi volano via. Volano via, però ci sono. Però una canzone che devo dire, a un certo punto, ero arrivato al livello di, sai fare gli sketch sul foglio per combinare le lettere del titolo, per dire poi me la tatuo. Capito? Addirittura? Sì, per dire quelle cose, che però non vuoi la frase. Basic, eh, bellissimo. E allora facevo tutte le combinazioni, ed è Youth Knows No Pain di Lickley. Ti ricordi Lickley? Sì, certo. Esatto. I follow you. Buonissimo, proprio. Ci scambiano spesso. Guarda che siamo fatti. Sì, sì, sì. Lickley è la prossima ospite, fra l'altro. Sì, che salutiamo e che canterà è la sigla di Rubikette. Esatto, esatto. E quindi ti direi quella. Youth Knows No Pain è un'altra, non è quella che cantavi tu. No, no, infatti, quella era Fallon Rivers, lo so, lo so. Un po' radical chic nel tuo, sì, nella tua canzone. Vero, un po' tra poco, cioè dimmene una che sappiamo tutti. Sì, di sicuro una che non ascolta abbastanza, perché ho paura di rovinarmi, cioè sono i grandi classici di Britney Spears. Io per tanti anni mi sono negato Britney Spears negli anni dell'adolescenza, che sono quelli in cui ti appassioni. Ma io non tenevo le canzoni nell'iPod, nel telefono, perché avevo paura che se le persone avessero visto chi ascoltavo, poi pensassero, non so se i verbi sono giusti, che ero gay. Capito? Ah, perché tu non eri ancora... No, sì, poi anche lì, il solito segreto di Pulcinella. Però non avevo fatto coming out e quindi cercavo, ogni virgola era puntata a preservare questa immagine. Questa virilità. Questa virilità che io cercavo di mantenere. Quindi dicevo, cioè, neanche la puoi ascoltare di nascosto, perché se te la metti nel telefono, che chi mai ti sblocca il telefono e ti guarda chi sta ascoltando. Forse in adolescenza lo facevi. Però era tutto puntato a quello. Quindi io mi sono negato Britney Spears, che per me oggi è proprio fonte di piacere, capito? È l'aria che respiriamo, certo, certo. Ok, va bene. E tipo Gimme More la vorrei ascoltare tutti i giorni, però mi accorgo che non l'ho messa ancora nella playlist, capito? C'è un irrisolto ancora? Sì, bisogna parlarne con la psicologa. Non con Britney, perché se no non è proprio in presenza. Ma come sta? Adesso c'è tutta una questione dei... Sembrerebbe addirittura che, adesso la nuova voce, è che lei non sia più tra noi e che chi balla e fa questi balletti pazzi sul suo Instagram in realtà è un'altra persona che con l'intelligenza artificiale prende le fattezze di Britney. Questo adesso c'è tipo hashtag Britney is not free. Ma quella ragazza non ha un secondo di pace? No, infatti io le voglio così tanto bene e mi dispiace come se fosse una di famiglia che sta così. E chi sarebbe nella tua famiglia? La cugina, la zia? No, sarei io. Britney sarei io 100% che a un certo punto è il mio 2007, mi raso i capelli, prendo ombrellate le macchine e chi si è visto si è visto. Sì, sì, sono io 100%. Torniamo a noi, un altro mai più senza. Una serie tv del passato ma che è un tuo mai più senza ancora nel presente. Che puoi aver scoperto adesso, che puoi aver scoperto diciamo in gioventù ma che ancora oggi ce l'hai con te, un qualche rewatch. Una serie tv che mi accompagna. Allora, io ti direi nell'attitudine, perché non l'ho riguardata, ma è una cosa che andrebbe fatta secondo me per analizzare pro e contro, Xina, principessa e guerriera. Quella! Cioè io mi sento un po' Xina, principessa e guerriera in questo mondo di oggi. E secondo me era il giusto dramedi. Cioè lei ogni tanto, che ne so, le rapivano il figlio, le rapivano la, come si chiamava l'amica sua, Olimpia, Corilo, litigava con Marte. Però poi c'era sempre quel comic relief, un po' quasi come gli anime giapponesi, sai no, che muore uno e poi c'è quello. Sì che va un po' a ripristinare gli equilibri, certo. Secondo me era un bello esperimento, cioè ad oggi non mi vengono in mente delle serie così comiche, dramedi. Vero, vero, vero. Io l'ho sempre guardata con altri occhi, Xina, era troppo buona, quindi tutto il resto passava in secondo piano. Per me sì, sì era troppo bella. Eh non scherzava, secondo me oggi un rewatch ci starebbe. Ma ti hai fatto dei rewatch anche interessanti nell'ultimo periodo, no? Sì, abbiamo anche delle novità, stai per caso parlando di Elisa di Rivombrosa? Certo che sì. Io penso che siate gli unici forse in Italia che hanno volontariamente, deliberatamente deciso di fare un rewatch a casa. Dopo il 2020. Dopo il 2020 di Elisa di Rivombrosa. Ma sai che c'è una questione irrisolta che non abbiamo mai capito? Cioè? Che dopo che l'abbiamo rewatchata, è passata nelle piattaforme a pagamento della rete che la possiede. Quindi Pippo Baudismo. Al contrario, cioè hanno detto, forse hanno visto una piccola, io non lo so se la gente veramente stesse riguardando Elisa, perché secondo me bastavano le nostre storie. Cioè perché avete influenzato delle persone online? Non lo so, però so solo che è diventata a pagamento e quindi poi volevamo vedere la seconda e poi c'è anche la figlia di Elisa che credo sia la terza. Ok. Ma ci siamo detti, se è in una piattaforma a pagamento, io posso fare dieci storie dove riprendo il contenuto e lo faccio vedere? Perché mi sembra che sto piratando un film, no? Ah! Cioè mi sembra che... Guardate questa, guardate la puntata. Ma secondo me stai facendo un favore a Cinzia TH Torrini che è lì che si sventola quei dollari. Ma poi TH, ma cos'è? Perché lei è di Tiene, è la provincia. No, non è vero, è una fake news. Ti immagini? Ero sconvolta da questo, era una cosa bellissima, geniale. Cioè quindi io sarei praticamente Florencia Vr di Stefano Bicciain. Esatto, come suona bene. In realtà aumentata VR, in realtà virtuale. No, no, scusami. Sì, VR, TH, perché c'erano delle leggende metropolitane, tipo dicevano che TH era... Sì, era una roba che da bambina lei aveva deciso, che è una cosa che lei però non ha mai svelato, che TH è una cosa che lei ha deciso di mettersi nel nome, cioè non è veramente TH il suo secondo nome, ma le dava un po' di sintomatico mistero. Perché tu ti immagini i genitori, oh che bella questa bambina, la chiameremo Cinzia TH. Cioè non so dove sia nata, ecco, però insomma... Perché no? Perché no? Comunque l'avete resa di nuovo ricca forse, grazie al rewatch di Elisa di Rivombrosa. Ma adesso sta arrivando, o hanno annunciato proprio ieri, perché abbiamo ricevuto una marea di tag, una nuova serie di Elisa di Rivombrosa. No! Però non so, non ho letto se è sempre su Elisa, perché Elisa a un certo punto spariva da Rivombrosa. Ah sì? Andava nel paese vicino. Basta. Una sparizione, credo... Diventava Elisa Taro Vigo. Esatto. Credo una sparizione legata all'attrice che forse ha detto, stacchiamoci un attimino che se no restiamo qua, però tutte supposizioni. E quindi ne sta arrivando una nuova. Prepariamoci. Prepariamoci un nuovo mai più senza. Vero. Benissimo, non vedo l'ora di vedervi che guardate. Beh, non vedo l'ora. Ti immagini fra vent'anni che starai facendo un altro format in cui intervisti qualcuno e ti dice il mio mai più senza è Elisa di Rivombrosa, ma quella del 2024. Ah, bello. Sì, interessante. Interessante. Non ci avevo pensato. Grazie. Ci rifletterò su. Andiamo un altro mai più senza. Un comportamento, l'abbiamo citato prima, di Alberto, che è il tuo compagno, che è la persona che ti aiuta, anzi che ti aiuta, che è proprio il 50% di tutto quello che stai facendo, rubrichette, libro. Mi aiuta a sopravvivere. A sopravvivere soprattutto. Un comportamento di Alberto che inizialmente era una cosa odiosa, fastidiosissima, ma che adesso invece è un tuo mai più senza, che quasi quasi l'hai adottato anche tu. Alberto mi ha insegnato a vivere. Nel senso... Addirittura. Nel senso... Aspetta, ma devo emozionarmi? Cioè mi devo commuovere? No, no, siamo proprio sul basic. Ok. Oddio, adesso devo inventarmi qualcosa che faccia commuovere. No, no, no. Anzi. Si sveglia presto, quel livello. No, quello sì che è commovente, se lo dico io. E quindi con quelle sue cose che ti verrebbe da dire, nel senso, ma tipo anche il sabato e la domenica, c'ho quei giorni che dici, stai tranquillo, rilassati, però sai che non funziona così con le persone. Eh, no. E che puoi dire, ma dai, dormi. Dormi. Crea l'effetto contrario, lui è molto, è proprio una persona brava nella vita. E quindi mi ha insegnato molte cose che, sai, un po', cioè uno dice, già è difficile la vita, magari se posso dormire fino a mezzogiorno, il sabato io dormo fino a mezzogiorno. E invece Alberto dice, ma perché? Non andare al caffè, al caffè, per non andare al bar a mangiare una brioche. E tu dici, ah, così? Sai che tutto sommato. Capito. Io gli avrei detto, guarda no, mi tiro dall'altra parte e via. Però se vai, portamene una. Eh sì, esatto, vai pure tu felice. Però l'hai adottata un po', questa abitudine. Eh sì, cioè quelle cose da bravo ragazzo. Anche, che ne so, caricare subito la lavastoviglie, non dire la lascio lì mezz'oretta. Cioè fare subito quello che c'è da fare, così poi ti riposi. Perché alla fine se ti riposi prima, comunque poi le cose che devi fare restano in coda. Invece se le fai subito, poi hai quel riposo un po' più senza pensieri. Posso dirti, è un atteggiamento molto da Veneto che produce. Sai che sì? Sì? Eh, credo di sì. Credo di sì. È più Veneto di noi, Alberto. Esatto. Secondo me sì. Però una di quelle cose fastidiosi all'inizio, cioè che dici dai, mollami, nel senso, dai, cioè che... Ma io, cioè, togli all'inizio, cioè... Ad oggi. Ad oggi, secondo me, però contento tu che l'hai fatta tua, benissimo, sono felice. Ok, e ti faccio l'ultimo mai più senza. Adoro. Ovvero la tua paura più grande. Cioè una paura, un personaggio, situazione, persone, cose che ti fanno una paura tremenda. Mi piace che dici personaggio, vorrei poterti rispondere tipo Pippo Franco. Sai tipo... Beh sarebbe... Se vedo Pippo Franco scappo urlando. No, no, purtroppo no, purtroppo no, purtroppo no. E una paura. Ne ho una, ma... Sai quando hai le paure vere e non le vuoi dire? Perché poi a quel punto la gente le sa. Oh mamma. No, dai te la dico, te la dico, dai te la dico. I cani di grossa taglia. Ma co... I cagnoloni? Io voglio bene a tutti gli animali, a tutti i cani, a tutti gli esseri viventi, ma... Se sono vicino a un animale che... Metti che lui quel giorno ha la giornata storta e vuole uccidere una persona. Proprio quel giorno lì. Sono io. Eh, lì ho un po' di paura. Però ti posso dire anche i chihuahua comunque se hanno la giornata che sono... Sì, ma cosa fa il chihuahua? Mi morde la caviglia. Eh, lascia stare. Mi attacca il tetano. No, adesso... Mi attacca una malattia che mi ammassa una settimana dopo. Dai, la medicina saprà cosa fare. Per me è proprio... È proprio una di quelle cose un po' animali. Per me è proprio la giugolare. Cioè se un animale può arrivare alla mia giugolare... Eh, no, sì. Quindi tu hai paura della giugolare, in realtà. Esatto. In realtà dovrei girare con un collarino. Un collarino abettiano tu, non il cane. Che mi difenda. E quindi io purtroppo, mi spiace dirlo, io veramente voglio bene agli animali. Vorrei che, anzi... Ho i tanti amici animali. Ho tantissimi amici animali. Vorrei che potessero vivere in una grande foresta, con gli spazi che si meritano, con la giusta metratura di erba fresca. Però quando li vedo in città, io cambio marciapiede, mi spiace dirlo. Ma per loro anche. Perché poi se mi ammazzano, loro vanno nei guai, no? Ma non c'è la galera per cani? No. Eh no, però c'è la... Ok, ok, ok. Capito. Ancora peggio. Sì, no, no, no. Io non voglio che gli succeda quello. E anche non voglio avere una cicatrice. Stanno prendendo una piega bruttissima questa cosa. Ma sono le paure. Ma ti fa più paura? Il cane di grossa taglia o le suore? Ah, siccome c'hai scritto tipo un libro su questa cosa. Hai ragione, hai ragione. Tu lo sai cosa gli passa sotto quel velo? Perché quello è per nascondere i pensieri e funziona. Ah sì, ah sì. Pensati, una suore a cavallo di un cane di grossa taglia è per me. No, è impossibile. Devo cambiare città. Devo cambiare città. Direttamente. Via, basta. Ok, 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 lo capisco. Ma senti, ma a questo punto c'è da capire che cosa ti hanno fatto queste suore. Cioè, tu e Papo avete scritto un libro insieme ad Alberto, Ho paura delle suore. Che cosa ti hanno fatto? Cioè, è un trauma infantile? È anche qui un sentimento atavico come quello dei cani di grossa taglia? Taglia, perché ti fanno così paura le suore? Ti immagini l'uomo delle caverne che comunque vedeva già delle suore e ne aveva paura. E cosa non mi hanno fatto le suore? Quanto tempo abbiamo? Eh, ok, mi sembra di aver capito che ci sono lì. No, le suore è una figura che ci affascina e l'abbiamo usata anche come spediente per dare... Comunque abbiamo creato una personalità a questo libro attorno alle suore, ma ovviamente si parla di tante cose, però le suore ne hanno combinate. Le suore sono state la prima forma di cattivo del film nella mia vita e nella vita di molte persone, perché i genitori, sai, i genitori severi fai fatica a considerarli proprio, no, i tuoi nemici. Però quando arrivi a scuola, e la scuola è gestita dalle suore, e c'è la suora direttrice che vi mette tutti in riga e decide chi far andare a mensa, come sedervi, e mentre mangiate passa avanti e indietro e controlla e dice tu finisci le carote, tu bevi più acqua, tu hai mangiato il pane. C'è questa sensazione un po' di cameratismo dove il generale è la suora. Hanno creato queste immagini, no? E poi io, poi mi piace tanto raccontarla così perché oggi ho preso possesso della comunicazione in questo ambito, ma io ero sempre in direzione perché ero un bambino cattivo. Tu eri un evil ragazzino? Scusa, non cattivo, ero monellino, cioè facevo le marachelle, cioè ero quello che, che ne so, quando chiamavano continuavo a giocare, forse lanciavo un paio di sassi, ma perché se in quel momento è battaglia di sassi cosa devo fare? Essere senza munizioni? Beh sì, è una scelta, è una scelta non partecipare alle battaglie di sassi. Io non ho mai fatto battaglie di sassi. No? No. Ah, brava, è per quello che non hai piccole cicatrici sul viso. Per questo che ho un viso radioso. È ancora tutti i denti, non ti è arrivato? Perché non ho mai lanciato né ricevuto sassi addosso. Come hai fatto a tenertene fuori? Perché è tipo una lotta fra gang, se non partecipi sei della gang delle suore? No. O tu hai fatto le suore? No, infatti non ho fatto le suore. Ah, brava. No, no, è per quello, io sono sempre stata laica, sin da, cioè mangia bambini sin da sempre. Come la cagnolina. Come, sì, esatto. Io mi affiancavo dei cani di grossa taglia, capito? Per proteggervi. Esatto, è così. Ma tu da bambina eri una bambina brava o monellina? Allora, io ero molto brava e di quelle cui piaceva sentirsi dire brava. Ma non secchiona di quelle che poi non faceva copiare. Anzi, io ero molto disponibile, bravissima, facevo copiare, facevo anche un po' di casino, ma il casino è arrivato più avanti. Tu volevi l'approvazione? Tu volevi l'approvazione, volevi l'approvazione delle maestre e dei compagni di classe. Di tutti, quindi pensa che fatica la mia vita. È da lì che ho sviluppato la sindrome dell'impostore perché volevo compiacere tutti, tutti. È stata la mia rovina. Però non parliamo di me, ma parliamo di te, perché questo tuo aspetto cattivello a me interessa. E a questo punto passerei direttamente a un altro step del nostro test, che è prescrizione. Ovvero tutte queste cose che sono successe un tempo, e quindi adesso ormai non sei più passibile di reato, ne possiamo parlare in serenità, ma a questo punto io parlerei del tuo essere stato una mean girl, cioè un bambino un po' cattivello. Quindi raccontami un episodio che è successo in cui tu effettivamente ti sei comportato... Male, diciamolo, male, esiste bene, esiste male. Allora, io soprattutto poi nel periodo delle medie c'era questo gruppetto, in realtà erano due ragazzi, io volevo tanto essere amico loro, e non erano i bulli cattivi, c'erano gli scalbanati. Scalbanati è italiano, vero? Sì, sì, sì. Non è Veneto. Si usa molto in Veneto, ma è Scalbanati è italiano, sì. Mi piace questo concetto che hai le scalmane. Ma poi viene esatto, viene dalle scalmane, che sono le vampate di calore. Le vampate di calore, quindi hai il sangue e la testa. Eh sì. E erano un po' degli spiriti liberi, e effettivamente siamo diventati amici alle medie, e facevamo un po' di marachelle. E alle medie, sai, è in quel periodo in cui, se vuoi, le combini. Loro poi hanno continuato e ne hanno combinate anche di proprio, di più gravi. Cioè che li salutiamo da Rebibbia? No, quello no, però secondo me è solo perché i genitori sono intervenuti ad un certo punto. Ok, se no veramente Rebibbia, ok. Cosa c'è a Padova? Il Due Palazzi. Il Due Palazzi, ok, 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 ok. No, mi ricordo una cosa molto pericolosa che abbiamo fatto alle medie, e che racconto con del pentimento nel cuore, se non fosse che alla fine avevamo tutti dei buoni addominali, un buon core che quindi ci salvava, è che c'era quel gioco, non so se tu te lo ricordi, che quel gioco, quel piccolo crimine, per cui uno dei, si faceva in due, andavi a parlare con un amico di solito, e finché uno distraeva l'amico, l'altra persona si metteva a quattro zampe dietro, così da creare l'ostacolo, e poi quello che stava parlando spingeva la persona, che quindi cadeva all'indietro. Cioè uno scherzo non da poco, tranne che... Io non l'ho mai sentito. Mai fatto. No, e la cosa peggiore che ho fatto io è il Lopez, Ti ricordi il Lopez? Il Lopez era? La ginocchiata. Ah, la ginocchiata e il tuo ginocchio. Poi c'era la svirgola, che era quando con la mano morta, davi una svirgola sul sedere di solito, e fa un male. Perché è la mano che viene usata... La stecca, noi dicevamo la stecca, Verona. Quello è il concetto. Ok. E ti fai male anche tu alla mano? Sì, sì. Poi a volte non vedi le cinture, i rivetti dei jeans, però si fa tanto male anche a chi le riceve. E poi c'era, scusami, qui si va proprio nel problematico. Ma con cosa siamo cresciuti comunque? Sì, no. Scherzi che non fa minimamente ridere, che però era... Si può dire? Si chiamava la Sparticulo. Ti ricordi? Mi spiace riportarla qui a One Podcast, però. Ma poi è un po' international, perché c'era anche in alcuni film, tipo college movie, c'era lo Sparticulo. Capito. Che è, però... Spieghiamolo. Doloresissimo. È proprio con le mani giunte a preghiera, no? Si spartisce il sedere, che è una cosa, posso dire, anche molto invasiva. Però è una roba... È tutto questo fra maschi, ovviamente, sempre per creare... I maschi, secondo me, non ce la raccontano giusto. I maschi etero. Ci sono dei problemi. O quando fingono di essere etero. Cioè, hanno comunque bisogno di contatto fisico, in senso anche solo... Sai, tipo che ne so, le scimmie nella foresta che si tolgono le pulci. Cioè, hanno bisogno di contatto fisico, ma hanno paura di sembrare omosessuali. Quindi è un macismo performativo. Capito. In cui però si stanno infilando le mani nel sedere, che dico, nel senso... Cioè, è una cosa che anche certi omosessuali non è detto che lo facciano quanto i ragazzini delle medie per farsi questi scherzi. C'è un'ossessione. Oppure tirarsi sulle mutande fortissimo fino a farsi male. Capito. Cioè, secondo me, ogni tanto scadono in un fetish che loro si devono risolvere. Quindi tu non sei finito in galera la volta che hai fatto... Com'è che si chiamava? Sai che non aveva... Stranamente non aveva un nome. E per quella volta che ho fatto cadere all'indietro un compagno di classe. Anche quella. Uno di quegli scherzi, chiamiamolo scherzi, fatti 200 milioni di volte, ma fra di noi, cioè nel senso anche a me è successo che mi spingessero, fra l'altro cadi anche sulla persona dietro. Cioè, c'è il rischio che si facciano male più persone. Sì, c'è che casca. Questo ha quattro zampe, ma metti che casca e sbatti i denti. Insomma, come al solito, i ragazzi non ce la fanno. Fatta 20 milioni di volte, nessuno si è mai fatto niente e nella tua testa diventa anche... Cioè, è uno scherzo che ci facciamo. È anche perché veramente, non lo so, sei giovane e non ti fai male quando cadi, non so cosa sia. O sei anche incosciente, vabbè. Capito. E quella volta lì? E quella volta lì è solo successo che ci ha visto il professore di ginnastica. Ah, no, ok. E quindi direzione, una settimana in direzione con la persona che aveva spinto. Fra l'altro, sì esatto, hanno messo in direzione quello che aveva spinto e io che ero a Carponi in quel momento. E poi è anche proprio... Però adesso è andata. È andata. È anche uno di quei momenti un po' Re Leone con Simba e Scar perché la persona che sta distraendo in quel momento spinge e deve guardare in faccia l'essere umano che sente che sta cadendo. E può scegliere se farlo cadere oppure tenerlo con sé. E lo fa sempre cadere. Lo fa sempre cadere. Che roba terribile. Quindi quello... Cioè se ci penso oggi se penso spingere una persona con un ostacolo dietro dico Edoardo è reato. Cioè è aggressione. Sì, sì, sì. Ma anche se non fosse un reato rischi di fare veramente male a una persona. E quella settimana di ricreazione in direzione me l'ha fatto capire. Vedi, almeno sei cresciuto, sei maturato. Sì, esatto. Ok, ok. Un'altra cosa magari essendo più leggeri perché ho già paura che veramente vengano fuori dalle cose che aiutano. Si poteva. Tutto si può. E fra BFF. Certo, come no. Lo dico per te più che altro. No, scherzo. Che prescrizione. No, no, ho controllato gli anni. No, dicevo. Un'altra... Qualcosa di più soft. Cioè hai mai millantato di conoscere qualcuno o sapere qualcosa che in realtà non conoscevi e non sapevi giusto per fare bella figura? Ti vorrei dire di sì ma io ho un rapporto molto particolare con le bugie. Cioè sei onesto e sincero? Sì, ma non per il motivo che pensi tu. Perché non ho memoria. Ah, ok. Cioè, il sapere che devo ricordarmi una bugia è peggio, è sempre stato peggio della conseguenza del dire la verità. Cioè, io piuttosto ti dico sì, Maria, ho mangiato io l'ultimo biscottino del cabaret di paste. Sì, professoressa, stavo copiando. Cioè, non riesco a gestire quelle situazioni in cui devi tenere in piedi una... Cioè, mi sembra che sia più energia rispetto a quello che succede se dice la verità. Ok. Però mi piace questo concetto. Quindi sei pigro. Esatto. Di fondo, cioè, il senso è quello. Capito, tu sei partita assai onesto. No, no, sono pigro. Sono pigro. Cioè, volevo riportare la moto alla realtà. E non ho proprio testa per ricordarmi queste cose. Tu che rapporto hai con le bugie e le racconti? No. No, ma perché bypasso la parte del non ho memoria. Proprio che non mi interessa. Cioè, non ho voglia. Non ho voglia di mentire perché non voglio perdere tempo. Cioè, io sì, si è proprio pigrizia a dei livelli... Cioè, perché devo mettermi a mentire quando, vabbè, mi accollo la responsabilità di aver fatto una cosa che non va bene? Pazienza. Prendiamo oltre e basta. Non hai commesso un crimine da adulti... Ma io non commetto crimine. Io sono perfetta. Cioè, no, no, capito? No, io sono irreprensibile. Non mi puoi dire niente. No, no, no. Io non butto neanche le cartacce per terra. No, no. Bene. Sì, sì, niente. Cioè, faccio la differenziata. Sono bravissima. Cioè, non puoi trovare nulla nella mia fedina penale. Niente, niente, niente. Stacchi l'etichetta? Tutto. Lavo. Lavo tutto quello che c'è da lavare. Stacco l'etichetta. Lavo una volta perché così non ci sono i residui di colla sul vetro. Poi metto tutto. Sai che il vetro non servirebbe a lavarlo perché lo lavano loro? Non importa. Io lo lavo, hai capito? Perché voglio che chi lo raccoglie veda che io l'ho fatto con cura. La conserva di Florenzia. Sì. Era pulita. Quella che brilla. Avete capito? Ecco, questa è la mia vita. Giusto, 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 giusto. Ma torniamo a noi. Sì. Torniamo a noi. Prescrizione. Ok, mi hai fatto sentire anche... Cioè, siamo pigri uguali. Quindi ci sono tanti punti BFF in comune. Mi piace. Passerei a un altro test. Anzi, in realtà, questo mi serve proprio per confermare quello che mi stai raccontando. Perché? Perché tu mi stai dicendo tutta una serie di cose. Però io non posso sapere se queste cose sono effettivamente vere o se stai mentendo anche sul fatto che menti. Che bello. Io non dico bugie ma in realtà ne dici tante. Cioè, mentire sul mentire. Capito. È poetico, è poetico. È metà menzogne. Cioè, proprio dei livelli di menzogne enormi. Per cui, vorrei fare un passo indietro e chiederti tu che rapporto hai effettivamente con i BFF? Cioè, hai un BFF o una BFF un'amica a cui dici tutto un amico a cui dici tutto e sei sincero sempre e non menti mai neanche sulle cose più intime? Hai una persona così? Io ti direi di sì. Cioè, i BFF si contano sulle dita di una mano giustamente, secondo me. E sono anche adesso voglio farlo sdolcinato però sono anche le persone veramente vicine cioè, anche Alberto mia sorella cioè, persone che non so, rientrano i BFF ma no, perché sono famiglia le persone che è già un legame vero, non conta però sì, sì e sempre per quel concetto di, secondo me dire la verità e essere sinceri su tutto anzi, se riesci a dire sempre la verità di solito vengono fuori delle cose divertenti cioè, non ti nascondi dietro dei costrutti e con gli amici puoi dire madonna, è successa sta roba che ridere Esatto, e basta anche se magari non fa ridere così tanto oppure è un po' scorretta ma non ti poni il problema di che persona hai O magari sai, ti propongono delle sai, ti propongono delle cose un po' a me fa sempre ridere riportare tutto per terra cioè, ti propongono qualcosa di un po' aulico un po' pomposo e tu dici madonna, me l'han chiesto in quel momento ero seduto sulla tazza del water capito? Sì, sì effettivamente mi piacerebbe partecipare a questo progetto ne parlo ne parlo col mio manager e ti faccio sapere non ho un manager E poi tipo metti un attimo resti in linea Ciao, sono il manager tu che camuffi la voce capito? Quindi con gli amici è sempre bello decostruire le cose che sembrano un po' impostate magari anche legate al lavoro che facciamo è molto divertente E questa persona chi è? Se tu devi raccontare queste cose qui Esclusi esclusi parenti Moroso e sorella che per me sono fondamentali ma a me viene in mente la mia amica Brigitte Brigitte? Brigitte Elise Brigitte Elise Ma si chiama veramente Brigitte Elise? Si chiama Brigitte Elise E di dov'è? Non è francese È del Veneto Ma come? È magia Eh sì Ma come si permette di avere un nome così Sì o no? Così elegante Eh lei è freschissima Ma l'hai mai vista? Dopo te la faccio vedere Forse nelle tue storie Sembra una modella Sembra Ti giuro Sembra Ma da quanto la conosci Brigitte Elise? Brigitte Elise Noi siamo stati compagni al liceo un paio d'anni prima che ci smistassero nel triennio Ma era Prima che vi allontanassero Esatto Ah io sempre con le mie compagne di banco Novembre incontro con i genitori delle mie amiche e i miei No sempre delle mie amiche Edoardo e Brigitte fanno tanta confusione sarebbe meglio se si sedessero separati Una tragedia Quindi io sempre a metà anno ho seduto in banco con gente che dice ma che cavolo ci facciamo assieme io e te Certo O insomma cercando di magari spostarvi la migliore amica davanti così Strategico Allora sai cosa facciamo Noi Brigitte Elise la chiamiamo Sto male Possiamo telefonare Io credo di sì Non l'ho avvisata Però Meglio Perché così già il fatto se ti risponde bene Se non risponde rivaluta se è tua BFF o no Però ad oggi il telefono posso dire il telefono è da BFF nel senso Beh se tu chiami Beh se tu chiami una persona senza avvisare telefonare per me è successo qualcosa Hai ragione hai ragione il telefono è veramente da BFF Eh sì È vero Chiamiamola Ci sto Col viva voce Prendo il telefono La chiamo col mio Sì sì Non so cosa stesse facendo oggi Deve avere un'ottima ragione per non rispondere Vero Forse è in Lei abita a Milano ma forse è in Veneto E quindi col basso non si risponde più È il Veneto di Stra e c'è la famiglia Ti porta via Mamma Edoardo Non risponderà Prova fallita Pronto Ciao Bri Ciao Edo Come stai amora? Bene Tutto a posto Tu come stai? Dove sei? Ciao Bri Io sono Florenzia Stiamo registrando un podcast che si chiama BFF Ciao Ciao Come stai? Bene bene Tu Guarda ci hai messo un po' a rispondere devo dirti Non così tanto BFF come ci dice Edoardo Allora Eccolo lì Ecco giusto Giusto È vero Scusa Bri Non ti ho avvisata di questa cosa Cosa stavi facendo di così importante da non rispondere? Una lezione di inglese Urca Ma scusa La stavi impartendo o la stavi ricevendo? No Ricevendo Ricevendo Ah Quindi hai mollato lì la lezione? Sì esatto Giusto Ah no dai Allora Sto prendendo qualche punto via fatto Sì sì E come Come Ci teniamo poco Allora Però grande Senti Allora in velocità Stiamo testando il livello di amicizia di Edo E anche per capire Perché voi vi conoscete dalla scuola Giusto? Sì 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 Ok Dimmi Che compagno di classe era Nello specifico Che compagno di banco era? Allora Giusto per dire Ci avevano messo In primo banco Ovviamente Per controllarci Perché facevamo Troppo casino Ok Ma nello specifico Era lui Perché io cercavo Di essere una persona Così ecco Con la testa Sulle spalle E lui Mi faceva sempre Ridere E mi faceva sempre Gli scherzi Mi faceva Gli agguati La Bri è vero Studentessa modella Ah vedi Allora io andrei d'accordo Con la Bri Sì Voi sì Credo di sì Tu ti ricordi Bri Che a un certo punto C'era un colloquio Con i genitori Sì sì esatto Ma io mi ricordo Che una professoressa Ha detto Io dovrei dividerli Ma sono troppo carini Quindi non voglio Mi fanno Fanno ridere anche me Quindi non voglio Non voglio disturbarli Li metto in primo banco Però non voglio disturbarli Sto male Chi era? La Oddio Quella di latino greco Non era portata Per l'insegnamento Anche dal commento Che ha detto Insomma Una professoressa Che dice Non li divido Perché mi fanno Tanta simpatia Diciamo che va bene Per altre cose Esatto Esatto Senti Ti lasciamo andare Ti chiedo solo Una cosa velocissima Tu sai Qual è la paura Più grande Di Edu Una paura irrazionale Che lui ha La paura di Oddio Oddio Ottima domanda Stiamo di non saperla Vorrei andare con una Lo so Insetti Insetti Interessante Diciamo la verità Insetti di grossa taglia Uniamo 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 le due Di grossa taglia Sì perché Infatti della taglia Di un piccolo cane Vedi che il cane torna Comunque Diciamo la verità Adesso non so se possiamo Svelare un po' Della vita di Brigitte Ma lei in questo momento È molto innamorata Di un cane Quindi secondo me Lei non registra La mia paura Per i cani Di grossa taglia Perché era un po' Quella la risposta Che avevo dato Però secondo me Brigitte L'ha dimenticato Perché è giustamente Molto innamorata Di questa piccola Cagnolina Che si chiama Scusi Piccola Poi sembra più che altro Una topolina Più che un cane Come cane di grande taglia Innanzitutto E come cane spaventoso Neppure No infatti Lei non mi fa paura No 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 Ti posso dire Guarda Brigitte Adesso ti lasciamo Tornare alla lezione Però secondo me Siamo più compatibili Io e te Che io Edo Te lo devo dire Perché con i cagnettini Mi hai conquistata Fantastico Ti mando una foto dopo Dai Sì sì Grande Mandamela in DM Fantastico Ti mando un file we transfer Cioè tutto il faldone Delle foto Due giga di cagnolina Meraviglioso Grazie mille Bri Grazie a voi Buona giornata Grazie Amora Buon corso Scusa Ciao 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 Secondo me stiamo entrando Molto in confidenza Anzi in confidenzia In confidenza Perché mi hai detto Delle cose che secondo me Brigitte non le sapeva Neanche lei Quindi c'è un terreno Molto fertile Per la confidenza Quindi io mi aspetto da te Una confessione Una un popular opinion Una veramente un'opinione Poco popolare Qualcosa di scomodo Di scorretto Qualcosa che farà Rizzare Un po' Rapprividire Ecco Mi aspetto Qualcosa che diresti E' proprio la tua BFF Una confidenza Allora vorrei partire soft E poi dirti quella vera Però non so se abbiamo tempo Per tutte e due Abbiamo tempo per entrambi Un popular opinion Io odio i mandarini al melone Cioè forse non scalda Così tanto come cosa Si chiama i mandameloni I melondarini Che disti tempi Attenzione Attenzione Non so se mi direi tu Ma abbiamo Ma io ho raccontato Io ho raccontato di quando Quella volta ho registrato Una puntata di Zelig Quando facevo un programma Su Mi ricordo Sul canale di Zelig Che adesso purtroppo Non esiste più Ho registrato la puntata Hai invitato tutti quanti Di follower Dove c'ero anche io A guardarti ricordi Sintonizzatevi tutti Canale Questa sera Una promozione sfiderata Per scoprire Due giorni prima Che mi avevano tagliato Dalla puntata Una figura Infatti l'unica cosa Che c'era rimasto da fare Era fare poi una puntata Di rubricchette Del nostro show Parlando di questo Grande fallimento Che comunque Ci ha fatto ridere Nel senso E no Quindi di molti Abbiamo parlato Anche di alcuni Abbiamo lasciato intendere Che insomma Non sono andati Perché vabbè Però c'è questo provino Di cui non abbiamo mai parlato Fatto Io e Alberto Impegnati molto Per questo provino Fatto il provino Dopo un po' Abbiamo chiesto Come fosse andato Perché non sentivamo Più niente Intuivamo Che non fosse portato A casa al lavoro Perché se no Magari mi avvisi Un po' prima E ci siamo sentiti dire Che non ci hanno scelti Perché? Eravamo troppo gay Si può? Dimmi la trasmissione Lo possiamo bippare Lo possiamo bippare? Sì sì Bippare per bene? Per bene Fatemi la bella larga La mascherina nera E che poi si vedono In faccia Non è Co Perché? Scusami Vero? Vero? Eppure Cioè che hanno detto così Perché eravate troppo Troppo Aspetta Voci di corridoio Cioè non te l'hanno detto In faccia No Perché se no Scusami Il feedback è questo Tutto bene Però non vi prendiamo Perché no Me lo scrivi in una mail Così vi denunciamo Certo No 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 È stato detto sotto banco Anch'io molto sorpreso Perché dico Bah Poi nel senso Potrebbe anche essere Un valore aggiunto Al giorno d'oggi no? Siamo sempre lì tutti Con gli arcobaleni Eppure è andata così Eh sì Eh così Che poi dico Scusami Scusami Florenzia Adesso tu Ci conosciamo Ma Ormai BFF È una cosa che con me Scopriresti a un provino No esatto E questo mi sono Stavo per dire Non volevo essere scortese Ma come dire Se uno ti chiama Per un casting Vuol dire che Ti ha visto Quindici secondi In mezza Instagram story E diciamo che Non è una cosa Che cerchi di No Non più Celare Non più Perché la vita Ora mi sorride Eppure Non lo so Forse dopo Era un provino Comunque è durato un po' Boh una mezzoretta Pure in mezz'ora Non si erano accorti Magari in mezz'ora Hanno detto Uff Ci ha riempito Poi scusami Non si erano accorti Che eravate una coppia gay Sì fra l'altro Non è andato lì Dicendo sì Alberto Il mio caro amico E collega stimato Cioè Eravamo in veste di coppia Ma forse ci sono Delle coppie Un po' troppo Scusami Io vorrei un attimo Il parere di Alberto Su sta cosa Perché è troppo forte Alberto puoi venire Che è qua Facciamo ne mistero Noi sì che non ne facciamo mistero Vero Eccolo Alberto Ma è vero È una cosa che ha caricato Eroardo Siamo ancora sotto shock Devo dire C'è successa Ma tipo cosa vi hanno chiesto Per arrivare alla conclusione Che Senza andare troppo nel dettaglio Perché si capisce Ma secondo me Intendevano l'atteggiamento Intendevano I polsi Esatto I polsi troppo sciolti Roteavano troppo Certo quel giorno Avevamo messo due tute Arcobaleno Però non abbiamo capito No non è vero In effetti Dice Poteva sembrare Però vabbè Così così È una storia da raccontare Ormai Cosa ci resta Non ci resta niente in mano Questo è vero Ma senti E invece Quanto di questo Magari ha inciso In altri lavori Perché in realtà Secondo me I lavori che state facendo Anche il libro per esempio Le varie presentazioni Tutto quello È anche dovuto al fatto Che siete una coppia E quindi Vi chiamano anche per quello Ma c'è stato un momento In cui magari Non so Per esempio Parlando del libro Delle presentazioni Che sono andate un po' Diciamo diversamente Da come dovevano andare Cioè un po' Un po' awkward Un po' Ma sai che no? Tutto benissimo Ce n'è stata una In cui Spesso le gestiamo da soli Essendo in due Insomma Già riempiamo il palco da soli Anzi sappiamo dove portare Il nostro pubblico Che credo Si diverta molto Lo dico ovviamente Da persona di parte No sì È divertente a volte Farle con magari Persone che ci presentano Che lo sai Che non ci conoscono Ok Però secondo me È quasi più stimolante Perché a volte Ho visto addirittura Un po' di scetticismo Perché Diciamocelo A volte sembriamo Cioè forse Parlo per me Scusa Parlo per me Non parlo per te A volte Sembro uno scemo Sul pacco Dici ma questo Dove è venuto fuori Perché è qua Però onesto Vero No nel senso Non che io lo pensi Ma questa consapevolezza Mi piace Ma perché A me fa molto ridere Solo che questa persona Magari te lo fa notare Di fronte a un pubblico Che è venuto lì per te Quindi è un pubblico Che cioè È dalla tua parte Di base Alberto di chi sta parlando No Bippiamo anche questo Bippiamo anche questo Non si può fare il nostro cognome Lo bippiamo Lo bippiamo Tra l'altro Non ce lo ricordi No non era nessuno Però faceva delle domande Un po' puntigliose Che dici Cioè Ci stavano Però il pubblico Cioè era lì per noi Perché ci conosceva Capito Quindi era come se Fossero domande più indirizzate Ad un pubblico Che non ci conosceva Invece La figura Orrenda ce la faceva lui Sì ma non orrenda Ti ripeto Molto stimolante Secondo me Molto divertente Come cosa Alberto ma è sempre così Edo che tira fuori Il buono di qualsiasi miseria Certo Io provo a volte a dire Ma no ti dovresti incazzare Per questa cosa Ma lui non ci riesce Quindi me lo consigli Come BFF in realtà Certo Secondo me sì Io sono Mi arrabbio Credo per le cose giuste Con le BFF Cioè quando Quando c'è da difenderle O magari loro non si difendono Cioè quando qualcuno Fa una cagata Con le BFF Io dico No Ti mando avanti Andiamo Facciamo qualcosa Se no Se è qualcosa Provo a dire Ma hai provato A guardarlo Da un altro punto di vista Sì Però è molto È molto fastidioso In certi ambiti A volte sì Però è vero Che tiri fuori Il meglio delle persone Così Chi lo sa Guarda che comunque Che bella pubblicità Non si butta via Capito Caspita Grazie Alberto Ma grazie a voi Questo era un Un contributo Decisivo per me Per capire se Poteva essere Un buon BFF Edo Chiuderei Col mostro finale Di BFF Cioè Una domanda Io mi dimentico Tutto quello che è successo Finora E in base a come mi rispondi A questa domanda Io capisco se possiamo essere BFF davvero Oppure no Urca Ok Sei pronto? La domanda è Questo muro qua Di che colore è? È un colore specifico Urca Urca Ma tu non l'hai chiesto È un colore È un colore È un colore importantissimo Per me Per la mia cultura generale I miei riferimenti pop Perché non è Azzurro Non è turchese E non è neanche lapis Ma è effettivamente Ceruleo Bene Stavo Avevo paura Che non sapessi rispondere Anch'io ho avuto paura Non mi stava arrivando Grazie dell'assist Mamma mia Florencia Per un attimo ho tremato Ho detto Se Edoardo Zaggia Non ha mai visto Il diavolo Veste Prada Ma stiamo scherzando Ma tu Chiudevo L'edificio Tutto Dice basta Chiudevo internet Tutto Ma tu di che parere sei? Chi è il vero cattivo Del diavolo Veste Prada? Perché sai che ci sono Pareri discordanti Anche in base Sì Alla coscienza Che c'è In quel periodo storico Sai chi è il vero cattivo In tutta quella discussione lì Secondo me? Sì Il mondo del lavoro Brava Il lavoro tossico Il lavoro che ti fa Dover scegliere ogni volta Tra Tengo gli amici Gli affetti L'amore Oppure scelgo la carriera Oppure il lavoro nella moda Che è un lavoro terribile Tutta una serie di cose Per me il vero cattivo Non è Miranda Prisley Non è Emily Non è il fidanzato Un po' tossico Perché comunque Allora È il mondo del lavoro Cosa ne pensi? Sì Assurdo E allora BFF Sono d'accordo Quindi basta lavorare raga Se c'è un messaggio Che possiamo mandare La conclusione è questa Basta lavorare E torniamo al punto di partenza Esatto Perché lavorare Noi sappiamo che cos'è E non ci piace Però si fa Dai Bisogna Siamo anche bene Ti si tira sulla manichetta E via E via E via andare E via andare Grazie Edo Dai BFF Ok ti sei salvato in corner Adoro Mignolino Grazie mille Edo Grazie a te Florenzia Evviva BFF Best Friend Florenzia È un podcast Scritto da me Florenzia Di Stefano Bicciain Con Maria Giulia Bertucci Supervisione editoriale Di Viola Afrifa La bellissima sigla originale È di Leonardo Maria Frattini Riprese e montaggio Di Paolo Invernizzi Supervisione tecnica Di Gabriele Rosi Responsabile Della produzione Danny Stucchi Una produzione originale One Podcast Grazie a tutti